Richard Rorty e la critica della filosofia. Il filosofo Richard Rorty non tenta principalmente di elaborare nuove concezioni circa i tradizionali e canonici oggetti del filosofare, Dio, l'essere, l'uomo. Al contrario la sua opera è un tentativo di mettere in congedo un bimillenario modo di filosofeggiare. Al centro della riflessione di Rorty infatti sta una serrata, serratissima polemica contro la filosofia e al tempo stesso un atteggiamento terapeutico come Richard Rorty in persona lo appella. Un atteggiamento terapeutico che mira a colpire la corrente dominante del pensiero occidentale. E' questo il tema al centro della principale opera di Richard Rorty che si intitola La filosofia e lo specchio della natura. L'immagine dominante della filosofia spiega Rorty nella filosofia e lo specchio della natura è quella di un sapere fondazionale, un sapere che giudica la validità di tutte le altre sezioni della cultura, dalla scienza alla religione, dalla matematica alla poesia e che perciò stesso assegna a ogni settore della cultura un posto peculiare. Questa immagine si rinviene già in Kant e nella sua concezione del filosofare come metacritica delle scienze speciali. Kant, dice Rorty, è colui il quale mette a tema la filosofia come tribunale della ragione pura che conferma o respinge, scrive Rorty, le pretese della cultura restante. Tale tematica ritorna al centro del neocantismo, della fenomenologia in Russell, nell'empirismo logico e nella stessa filosofia analitica. Ecco che sotto questo riguardo, spiega Rorty, il presupposto comune di tutte queste filosofie è l'idea della filosofia con la F maiuscola come disciplina che ha una sua specifica e privilegiata via di accesso alle basi della conoscenza e ai meccanismi della mente. Dunque filosofia, conoscenza e mente risultano idee interconnesse. Ma che cosa vuol dire mente dal punto di vista di Rorty? Della mente come specchio, cioè come occhio immateriale che rappresenta in modo adeguato o inadeguato la realtà. Di questo si parla quando si parla, dice Rorty, di mente. La realtà, infatti, dice Rorty, esiste un'immagine che continua a tenere prigioniera la filosofia ed è l'immagine della mente come un grande specchio che racchiude rappresentazioni diverse, alcune accurate, altre no, e può essere studiato, scrive Rorty, attraverso metodi puri, non empirici. D'altro canto, spiega ancora Rorty, in assenza del concetto di mente come specchio non vi sarebbe stata l'idea stessa della conoscenza come rappresentazione certa, sicché non avrebbero avuto alcun senso i tentativi di Cartesio e di Kant volti a ottenere rappresentazioni più accurate attraverso l'esame, la riparazione e la ripulitura dello specchio. Nemmeno avrebbe avuto senso, altrimenti, spiega Rorty, la tesi secondo cui la filosofia consisterebbe di analisi concettuale, di analisi fenomenologica, di spiegazione dei significati o anche di esame della logica del nostro linguaggio, oppure ancora della struttura dell'attività costitutiva della coscienza. Ecco perché quella che domina nella filosofia, dice Rorty, è una teoria speculare o spettatoriale della conoscenza, la quale dottrina affonda le sue radici nella dottrina platonica e nel mondo greco, dove la conoscenza è visione, idein, conoscere rimanda a orao, vedo, e l'anima stessa viene intesa come uno sguardo intellettuale. Ebbene, questa concezione, dice Rorty, è semplicemente un mito cartesiano, locchiano e cantiano, il frutto di una costruzione storica da cui abbiamo già da tempo preso le distanze. Se la filosofia tradizionale aveva l'aspetto di un pensiero fondazionalista ed epistemologico, la nuova post-filosofia di cui parla Rorty ha invece le sembianze di un pensiero antifondazionalista e antiepistemologico, dunque strutturalmente antiplatonico, anticantiano. Del resto, spiega Rorty, le ambizioni epistemologiche della filosofia sono state rigettate da quelle stesse attività che la filosofia si prefiggeva di legittimare, come la scienza e la politica. E se Cartesio, Locke e Kant sono stati i fondatori della filosofia moderna, Wittgenstein, Dewey e Heidegger ne sono stati i distruttori. Ecco perché la filosofia non è più fondazione. Ecco perché l'opera di Heidegger, di Dewey e di Wittgenstein è un'opera terapeutica, non costruttiva. E tale vuole essere anche l'opera di Rorty, che mira a essere terapeutico, cioè a guarire elementi dalla filosofia e a favorire in tal guisa il transito dalla filosofia alla post-filosofia. Ecco perché, per un verso, Rorty dichiara la fine della filosofia, che viene detta malattia culturale da cui occorre affrancarsi, in vista di una nuova era post-filosofica e, per un altro verso, Rorty specifica che dopo la filosofia vi sarà ancora la filosofia, da che a essere finita non è la filosofia in quanto tale, ma la filosofia che cerca la fondazione sistematica dell'essere e della conoscenza. Ecco perché non finisce la filosofia in quanto tale, ma finisce un certo tipo di filosofia, quella di cui si diceva in precedenza. Ecco perché Rorty distingue nel presente filosofi normali e rivoluzionari. I filosofi rivoluzionari a loro volta sono di due tipi, quelli che fondano nuove scuole all'interno delle quali può essere praticata la filosofia normale e professionalizzata, come Cartesio e Kant, Husserl e Russell, e poi il secondo tipo è quelli che rigettano l'idea che il loro vocabolario possa mai essere istituzionalizzato o che i loro scritti possano essere considerati commensurabili con la tradizione. È il caso di Kierkegaard e di Nietzsche, ma poi anche dell'ultimo Wittgenstein e dell'ultimo Heidegger. Ed è a questa seconda tipologia di filosofi che vanno le spiccate simpatie di Rorty, che appunto non nasconde la propria simpatia per i filosofi rivoluzionari in questa accezione. La filosofia edificante che Rorty accosta all'ermeneutica deve lasciar cadere sia l'immagine della filosofia come sapere professionale di tipo specialistico, ossia l'idea del filosofo come uno che conosce alcunché intorno al conoscere, che appunto nessun altro conosce altrettanto bene. In questa nuova veste di tipo diverso la filosofia diventa una semplice scrittura fra le scritture, non è più espressione privilegiata del sapere, è una delle tante voci all'interno della conversazione complessiva dell'umanità. L'impegno morale dei filosofi, scrive Rorty, dovrebbe essere quello di continuare la conversazione dell'Occidente e tale conversazione si alimenta del dialogo, vale a dire di una democrazia dialettica che vive del confronto incessante dei diversi punti di vista senza alcuna pretesa di reciproca sopraffazione.